Buongiorno, oggi è il 11 agosto 2018, è la giornata 223 di questo anno. Intanto mancano non tantissimi giorni per la fine di questo anno e mi piacerebbe fare il conto preciso, ma per quello chiedo sempre a un amico, un carissimo amico che si chiama Stefano, che lo saluto. Ciao Stefano! E quindi il titolo di questa giornata si chiama Angeli, siamo noi. Ieri è stato un appuntamento a Palazzo Grasi, lo chiamo Lunch for Art. Vi consiglio che vi prendete un giorno alla settimana in cui la vostra energia la dedicate all'arte. è molto bello perché l'arte riesce a purificare l'anima, è una cosa veramente straordinaria. In questo incontro, che eravamo tra Maurizio, Francesca, Michele, Anita e Elisabetta, praticamente nascono vari progetti, è una fucina di incontri, di condivisione artistici. È molto molto bello. Intanto vi voglio invitare il 22 di questo mese, il 22 agosto, martedì 22, al primo social lab, costa 4,16 euro, avrete un'opera di Carrion e ci sarà la presentazione di un documentario, film documentario di Michele Capuzzi. Sarà su un documentario che ho fatto a Genova, dopo magari vi aggiorno di più. Se volete mandarmi la vostra e-mail o aggiungervi per gli appuntamenti che stiamo facendo, l'e-mail è venetiansoho-gmail.com Vi auguro una fantastica e meravigliosa giornata e dobbiamo sempre ricordarci che dentro di noi, ognuno di noi, siamo degli angeli. Buona giornata! Carrion Angeli siamo noi, caduti del cielo, voliamo tra le anime, come la musica accarezza le montagne. Per amare energia, cosmica, tocca le radici, baciando il tuo cuore. Carrion Il tuo cuore.